La recente aggressione ad una dottoressa in pronto soccorso all'Aquila al centro di una riunione in prefettura. Il prefetto Giancarlo Di Vincenza riunito attorno allo stesso tavolo, forze dell'ordine, asle e sindacati. C'è la necessità di rafforzare i protocolli di sicurezza per gli operatori sanitari, esposti sempre più a rischi. In pronto soccorso ci sono vigilantes, ma evidentemente non basta. Un discorso che coinvolge anche la branca della psichiatria, maggiormente esposta dai bisogni del genere, seguita dal pronto soccorso. Nella riunione in prefettura sono stati affrontati vari aspetti, ma di certo la situazione sta esplodendo e per cui servono soluzioni immediate. Io ho chiesto apertamente che venga istituito il posto fisso di polizia H24, come sta succedendo in alcune parti della nazione d'Italia. Chiediamo la tutela degli operatori sanitari, di metterli in condizioni di lavoro sereno, di ricevere i pazienti e quindi tranquillizzarli, perché è facile poi di dare sempre alle polemiche le attese e le lunghe attese, è che ognuno si assuma la propria responsabilità. In questo caso ci vuole il posto fisso di polizia H24 con i vigilanti e quant'altro, perché quello che è successo sabato è una cosa che ci lascia amareggiati e dubbiosi, perché con la presenza delle forze dell'ordine, con l'episodio già avvenuto, perché da quello che abbiamo letto sugli organi di stampa è stato prelevato a casa, non sia stato possibile tutelare gli operatori sanitari, perché la professoressa si è ritrovata con questo soggetto in escandescenza e la cosa che mi lascia più rammaricato, che leggo sugli organi di stampa, è che, se è vero, come si dice, i poliziotti erano all'esterno dell'ambulatorio per la privacy. La ASL da parte sua ha dato massima disponibilità e al prefetto ha chiesto sostanzialmente le stesse cose dei sindacati. A breve metterà anche in sicurezza il reparto di psichiatria. Visto che il direttore ha avuto l'incontro con il prefetto, dove chiede la stessa cosa, la sicurezza degli operatori sanitari, ha chiesto che ci sia la presenza del posto fisso di polizia, quindi siamo tutti quanti sulla stessa linea d'onda. Anzi, vorrei dire, perché poi polemiche non polemiche, ma non per fare neanche chissà cosa, però quando poi vengono recepite le problematiche, vengono anche risolte, e a breve verrà messa in sicurezza anche tutta la parte del reparto psichiatrico,